Cosa? Come dici? Ah, che il mare ha tantissimi benefici e dovrai venire a provarli? Vabbè, io vado. Ciao amici, è vero, il mare ha tantissimi benefici, ci sono tanti studi scientifici, basta fare una ricerca su Google per provarli. Oggi fa caldo, non ci vogliamo annoiare con cose complicate, vero? No, anche perché noi al mare ci siamo già, vero? Buon per voi, ma il mare fa bene a tutti. Sì, intanto, se anche a voi, come a me e a Squaletto, piace il mare, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E adesso subito i benefici che a me piace ricordare quando sono al mare, così me li vivo con più consapevolezza e aumento il mio benessere. Grazie a tutti. Cosa vi dicevo? E ora ditemi voi, cosa c'è di meglio che starsene spaparanzati in spiaggia a prendere il sole e respirare aria di mare? Beh, andare anche un po' in acqua così riceviamo tutti i benefici del mare, eh? È vero, una volta temevo di essere pigra a starmene distesa al sole. Invece oggi ho capito che è una ricarica naturale potentissima e ne abbiamo bisogno. Ma attenzione a rispettare i giusti orari, mi raccomando. Altrimenti invece di ottenere benefici, facciamo danni. Ora, per vedere altri video consigli utili al benessere naturale, iscrivetevi al canale. È facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche. Condividete con i vostri amici, parlate dei benefici del mare e se vi chiedono come fate a sapere tante cose, fategli vedere questo video. Io vi aspetto sempre qui sul canale. Al prossimo video allora, naturalmente. Ciao! Spiace per voi!